Ma ragazzi, ma secondo voi, io potevo mai chiudere il canale dopo due anni di fracassamento di cazzo? Ma direi proprio di no raga, infatti al massimo se ne aprono altri, non se ne chiudono. Quindi voglio ringraziare assolutamente tutti quelli che mi hanno stimolato a non chiudere il canale, anche se stavo scherzando raga. Perché comunque sia, quelle frasi fanno sempre piacere. Quindi voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno scritto delle belle parole e voglio mandare a fanculo tutti i haters e ragazzi che magari non sono contenti di scrivere il canale. Ma io il canale non lo chiudo, quindi qua si va avanti, non si molla mai. E raga, possiamo riprendere di nuovo a pubblicare nella maniera corretta. Ciò almeno quei quattro video settimane. Bella raga, alla prossima. Shibarabam!